Infatti qual è il tuo obiettivo finale? Nel senso, arrivato a questo punto a livello di stazza fisica, penso che non è che crescerai ancora di più Contento Walter, attento che prepara al pugno Se parti come me, posso arrivare magari ai tuoi livelli, c'è una crescita gigante, arrivati a questo punto la crescita a livello anche di percentuale non è così grande Quindi cos'è che ti motiva ad andare avanti? Qual è l'obiettivo finale che hai adesso, oltre a Mister Olimpia? Ma ti dico la verità, tecnicamente quello che hai detto è correttissimo, nel senso che non ci sarà più un esplomo muscolare dove gli prenderò 50 kg, quello è ovvio Però, credo che ogni persona, indipendentemente da quello che fa, abbia un tempo giusto per fare determinate cose E quando quel tempo è finito devi smettere di fare quella cosa Se io a 50 anni continuassi a fare la vita che faccio ora, come quando sono arrivato prima, con il pesce dentro la busta sotto vuoto Mi sentirei decontestualizzato, mi sentirei fuori luogo, adesso non me lo sento È una cosa strana, ma è una cosa che in questo momento è necessaria perché in questo periodo della mia vita Io ho questo come core, sia dal punto di vista appassionale che dal punto di vista anche business lavorativo Mi darò un limite perché mi renderò conto che da quel momento in poi non sono più adatto Non sono più adeguato Io ho sempre detto che smetterò di fare l'atleta quando la mattina mi alzerò e l'idea di andare ad allenarmi mi peserà Psicologicamente mi peserà Ancora non succede mai proprio che un giorno ti svegli e non c'è voglia proprio di allenarti La cosa che dico adesso è veramente così Io mi alzo la mattina e non penso che è lunedì, è il giorno delle gambe Scandisci così la settimana Il martedì sono le spalle, il mercoledì è il dorso, il giovedì sono i femorali, il venerdì è il petto, il sabato sono le braccia La domenica shopping solitamente È l'ossessione questa Ma è l'ossessione positiva Infatti la cosa che rispetto tantissimo dei culturisti, di che fa bodybuilding È il mindset Esatto, è proprio il mindset Perché sai, io con tutto il rispetto parlando Non ho fascino nei confronti di quel corpo, ok? Personalmente Però ho veramente tanto fascino nei confronti di come questa persona riesce ad arrivare a questo corpo Cioè dell'effort che ci mette Dalla mattina alla sera avere proprio quel pensiero lì Cioè vado a un palestra, mangio in questo modo Con una costanza, una dedizione pazzesca Ma tu hai detto una cosa giustissima Il bodybuilding, a meno che tu non sia malato di muscoli, non ha fascino No, no, ma è vero Io sono Tu mi hai chiesto prima quale sarebbe il mio obiettivo In futuro sicuramente mi penserebbe fare il comunicatore E quello è tutto l'aspetto motivazionale Ok Quindi andare a divulgare quello che il bodybuilding di base ha Quindi questa grossa capacità di gestire la propria routine quotidiana Il fatto di avere il senso del dovere Il senso della cosa che per me è la componente fondamentale che è la disciplina E la disciplina batte qualsiasi cosa Batte la passione, batte la motivazione, batte l'ossessione La disciplina è il motore con cui una persona deve avere a che fare O meglio è la componente con cui una persona deve avere a che fare costantemente Se vuole ottenere un risultato in qualsiasi ambito si parli Se io sono uno studente di medicina Per quanto posso essere appassionato alla medicina Per quanto posso avere amore verso questa materia, questo ambito Dopo che al terzo o quarto anno sono tutti i giorni della mia vita Che studio 12-13 ore al giorno C'è il giorno in cui dico Vaffanculo la medicina Non la sopporto più Non ce la faccio più Che cos'è che anche quel giorno mi fa studiare La disciplina La disciplina La disciplina Chiaro